Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Nicola Canepa e come tutti voi in questi giorni vorrei restare qui, ma sono a casa. Ne approfitto in questi giorni per allenarmi. Guardate come. In modo non ci si può andare, bisogna fare andare la fantasia. Questa è anche un'occasione per dare un po' di lezioni di italiano alla mia ragazza Neta, che viene dalla Repubblica Ceca. Cosa hai imparato? Io resto a casa. Brava, stai imparando bene. Lo so che è un momento difficile per tutti quanti, però adesso è un momento in cui dobbiamo veramente essere forti. Dobbiamo stare in casa, non dobbiamo uscire. Mi raccomando, il mio pensiero va a tutte le persone che non stanno bene, che stanno soffrendo per questa malattia. E grazie dal cuore a tutte le persone che si stanno occupando dei malati, a tutte le persone che lavorano negli ospedali, perché siete voi eroi adesso. Quindi grazie di cuore e forza. Grazie. Grazie.